Sport e divertimento per combattere pregiudizi e discriminazioni sono arrivati in un migliaio a Bosco albergati nel Modenese per partecipare ai mondiali antirazzisti. La manifestazione della WISP è arrivata alla ventitresima edizione. Davide Maggiore. Toleranza, cittadinanza attiva e solidarietà. Scambiarsi del bene, l'importante è che ci divertiamo. Mi piace per divertire le genti, per conoscere le genti. Questo e molto altro sono i mondiali antirazzisti WISP. La manifestazione di Bosco albergati nel Modenese è arrivata alla ventitresima edizione. Quest'anno sono un migliaio i partecipanti e 66 le squadre di varie nazioni tra calcio, rugby e pallavolo. Tanti volti, un solo spirito. Inclusione attraverso lo sport, per cui è uno spirito gioioso, di festa. Vuole mettere insieme sport, musica e cultura per far pensare e credere alle persone che possono stare insieme al di là delle differenze di genere, di colore e di religione. Per alcuni ormai i mondiali antirazzisti sono una tradizione. Mino è l'allenatore di una squadra che fa scendere in campo anche i pazienti dei centri di salute mentale del Bolognese. Ci cerchiamo di integrare le persone, cerchiamo di spiegare anche nelle scuole agli studenti che c'è un modo diverso di fare sport e di non discriminare. Con lo spirito sportivo cresce anche l'integrazione. Questo torneo condividiamo con altre squadre di tutto il mondo e questo ci fa felice perché giochiamo e vediamo un altro punto del mondo, un'altra prospettiva. E quest'anno i mondiali antirazzisti girano l'Italia. A luglio appuntamento a Riace ma sono 27 in tutto il paese gli eventi sportivi a cui è possibile partecipare fino a settembre.